L'esposizione per la sicurezza e l'igiene del lavoro Uno speciale dispositivo impedisce a quest'altra di entrare in azione se prima l'operaio non ritira le mani Questa macchina tipografica detta platina è dotata del dispositivo scansamano Questa mola è dotata di uno schermo trasparente, l'operaio può fare a meno degli occhiali che spesso riescono molesti Cuffie di protezione evitano gravissimi infortuni Tipi di abbigliamenti particolarmente studiati a seconda del genere e della pericolosità del lavoro Questi plastici insegnano come si deve razionalmente sollevare e portare un peso Grazie a tutti Grazie a tutti